E' il momento della seconda semifinale femminile. Ai piedi del Tempio di Giove si sfidano la testa di serie numero due del Seeding in Rosa, la coppia composta da Ninni Valentini e Giulia Gasparri, due volte campionessi italiane nella stagione 2021 indoor e outdoor. Di fronte a loro, Flaminia, Daina e Joana Cortes imbattuta per il primo punto, Giulia Gasparri. E' lungo il lob di Giulia, 0-15. E' un altro servizio vincente in zona di conflitto. Siamo uno pari in avvio di partita tra Gasparri Valentini e Daina Cortes. Testa di serie numero due contro la testa di serie numero tre. In questo match, questa seconda semifinale del campionato mondiale alla Todis Arena di Terracina. e la chiude da par suo, la Gasparri, con un ingresso prepotente su palla alta con il dritto. Due giochi pari, sarà proprio lei ad andare imbattuta tra poco. Basta la prima palla break, il pallonetto è molto corto, ne approfitta Ninni Valentini. Quattro giochi a due in favore di Valentini e Gasparri, che andranno ora al servizio. Colpita Flaminia, Daina, che nulla poteva fare di fronte all'attacco dell'avversario. 30-40. Chiude con lo smash a incrociare Giulia Gasparri. ha colpito sostanzialmente piedi a terra, gioco da ragazzi per un talento come l'atleta di Lugo. Sei giochi a due in favore di Gasparri Valentini allo stop dopo la conclusione del primo set. Si torna in campo con l'errore di rovescio da parte della Gasparri, brava. Flaminia, Daina, a tenere sotto pressione l'avversaria. In rete il rovescio di Giulia Gasparri. C'è il break, due giochi a uno per Gasparri Valentini a cambio di campo. Cortese e Daina trovano inerzia nel match, rientrano definitivamente in partita. 6-2, 2-1 per la testa di serie numero due del seeding. Formazione a E in questo caso per Daina Cortese con Flaminia, che vuole dare pochi riferimenti all'avversaria. Spinge forte al centro. Però la risposta di Nini Valentini è perfetta. In questa situazione di gioco molto spesso la differenza la fa la risposta. Come potete vedere riuscite a tenere la palla molto bassa e abbastanza angolata. Partendo dal centro entrambe le giocatrici sugli angoli risultano scoperte, anche se riescono spesso a risultare imprevedibili. in rete il rovescio della Cortese. C'è il break, chiama l'intervento del fisioterapista Flaminia Daina. Guaio fisico per la lottatrice. Ricordiamo grande protagonista anche nel doppio misto, dove ha raggiunto la finalissima in coppia con Nikita Burmakin, fresco di pass per la semifinale maschile di domani. serve da sotto, condizionata ovviamente dai problemi alla schiena. Flaminia Daina. Chiude con il lob vincente Giulia Gasparri. Gasparri e Valentini raggiungono nella finalissima eridata il duo brasiliano composto da Rafaela Miller e Patrizia Diaz. Sconfitte 6-2, 6-4. Flaminia Daina e Joana Cortez. Si conclude quindi la seconda semifinale femminile. Ora ci saranno tre quarti di finale maschili consecutivi. A tra poco. Grazie. Grazie. Grazie.